Michael Jackson era il king del pop. Per quanto Michael Jackson sia stato uno degli artisti migliori di sempre dal punto di vista di ischi, produzione musicale, voce e impatto sul pubblico, non reggerà mai il confronto con uno come Prince che ha creato completamente al 100% tutta la sua carriera e tutta la sua musica.